Il comune di Cava dei Tirreni ripropone anche per l'anno scolastico 2015-2016 l'operazione nonno e nonna vigile. Muniti di pettorine e palette, quindi gli aspiranti volontari torneranno a scendere in campo davanti ad alcuni plessi scolastici metelliani e controlleranno l'accesso e l'uscita dei piccoli scolari affiancando così nel loro lavoro gli agenti di polizia locale. A tal proposito il comando della polizia locale ha reso noto le modalità per le domande di partecipazione che dovranno pervenire entro il prossimo 8 settembre. Possono compilare l'apposita domanda tutti i pensionati residenti a Cava dei Tirreni di età non superiore ai 75 anni e farla pervenire tramite l'ufficio protocollo al comando della polizia locale che provvederà alla selezione dei volontari. Il servizio di vigilanza dei nonni vigile verrà svolto negli orari di ingresso ed uscita dalle scuole con prestazioni giornaliere che non dovranno superare le tre ore. In casi eccezionali inoltre su espressa autorizzazione del comando di polizia locale per i nonni vigile potranno essere previsti servizi di sorveglianza durante manifestazioni culturali organizzate dal comune. Spero che ci sia una buona partecipazione ha fatto sapere il sindaco Vincenzo Servalli anzi voglio invitare quanti ne hanno la possibilità a partecipare a questa bella iniziativa che mette al servizio della città, delle famiglie e dei bambini l'esperienza e l'occhio attento di chi conosce la vita e i suoi pericoli. Sarei veramente felice conclude Servalli se quest'anno ci fosse la partecipazione anche delle nonne che aggiungerebbero un occhio materno all'iniziativa. Paola Berardino è il nuovo delegato CONI Salerno. La Berardino eletta dal dirigente del comitato regionale CONI della Campania Cosimo Sibilia ha sostituito Mimma Luca. Per anni Paola Berardino è stata giudice internazionale di ginnastica presenziando con questo ruolo a ben due olimpiadi. Docente presso l'istituto comprensivo Moscati di Ponte Cagnano la Berardino accoglie questo nuovo incarico con entusiasmo e tanta passione. Tra i suoi prossimi impegni vi è l'evento San Matteo Sport e Valori, una rassegna di sport del mare che si svolgerà a Salerno e che richiamerà un gran numero di atleti. Quale sarà il suo nuovo ruolo qui al CONI di Salerno? Cosa si aspetta? Quali sono i progetti in cantiere? Sicuramente come il CONI persegue sempre gli obiettivi di diffusione e pratica sportiva quindi sia ad alto livello ma anche per i ragazzini perché ha una valenza educativa, morale e sociale per cui l'importanza è essere sul territorio perché la provincia di Salerno è vasta però noi abbiamo dei fiduciari locali in questo caso a Cava c'è Pasquale Scarlino che conosco bene che quindi è una persona che dà ottime garanzie. Le nuove iniziative sono una manifestazione che a Salerno è giunta alla quattordicesima edizione, Sport e Valori nell'ambito dei festeggiamenti del Santo Patrono di San Matteo intende valorizzare gli sport del mare. Sport e Valori è un connubio ormai consolidato, qual è il ruolo del CONI in tal senso? Il CONI si fa promotore e organizza in prima persona con la collaborazione delle federazioni degli sport del mare e con la collaborazione dei Canottieri Irno che danno il supporto tecnico sportivo. Una novità di quest'anno è la valorizzazione della parte culturale perché come dice il titolo Sport e Valori. Due amichevoli in programma per la cavese di Mr. Longo che prosegue a ritmi serrati la preparazione in attesa che vengano ufficializzate le date per l'inizio del campionato. Alla luce di un eventuale slittamento oltre la data stabilita del 6 settembre, Longo ha infatti deciso di intensificare il lavoro e sfruttare al meglio il tempo a disposizione allo scopo di abituare i suoi uomini al clima delle partite ufficiali. D'altronde lo stesso tecnico ha in programma di rifinire diversi aspetti della squadra che stando al suo parere è pronta al 60%. Gli Aquilotti quindi dopo l'impegno pomeridiano al desiderio di pregiato con il Solofra che si candida come protagonista del prossimo campionato di promozione hanno già in programma per venerdì un appuntamento d'eccezione fissato per le 17 al Simonetta Lamberti per il test contro il Melfi, formazione che milita in Lega Pro alle direttive del tecnico Giuseppe Palumbo. Gara dai ritmi altri quella contro la formazione giallo-verde per gli Aquilotti che nel corso della preparazione hanno già affrontato una squadra di categoria superiore come il Benevento. Il costo del tagliando per l'amichevole è di 5 euro per tutti i settori. Dalla società inoltre hanno fatto sapere i punti vendita presso i quali i tifosi potranno acquistare il biglietto.